Cessone è un bellissimo American Pit Bull Terrier di sei anni che cerca urgentemente casa. L'appello è stato lanciato dalla sezione OIPA di Piacenza, che da oltre un anno se ne sta prendendo cura. Il cane apparteneva ad una persona che ha subito uno sfratto e per evitare il passaggio in canile i volontari hanno trovato una soluzione provvisoria in un box messo a disposizione da un'azienda. Quotidianamente si recano da lui per garantirgli le uscite, le passeggiate e la socializzazione. Queste razze così apprezzate dal punto di vista fisico e così ricercate purtroppo a volte vanno in mano a persone sbagliate e che poi con molta facilità se ne disfano. Lui è un cane assolutamente equilibrato, molto socievole con le persone, è castrato e è assolutamente abituato a un contesto urbano, quindi lui vivrebbe benissimo in appartamento. L'unica cosa che ci sentiamo di dire è che come tutti questi cani che hanno delle caratteristiche di razza molto accentuate e Jason come gli altri hanno proprio bisogno di un legame quasi totalitario con il proprietario. Quindi anche se è compatibile con gli altri cani, la convivenza e quindi la condivisione delle risorse e la risorsa è anche lo stesso proprietario può risultare non impossibile ma sicuramente un po' più complicata. Quindi ecco perché anche quando ci sono state delle richieste, se l'adottante aveva già altri cani suoi di proprietà, abbinare Jason è un po' più complicato, quindi cerchiamo qualcuno che voglia Jason come compagno di vita con cui condividere tanto tempo e quindi cerchiamo qualcuno che non abbia altri animali. Quella di Jason sarebbe una vera e propria adozione del cuore che darebbe la possibilità ad un cane sfortunato di ritornare ad avere piena fiducia nel genere umano.